Un'ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare per associazione mafiosa è stata notificata dalla polizia in carcere a Giuseppe Russo, 25 anni, e Francesco Ieni, 42 anni, figlio del boss deceduto Giacomo Maurizio, che era capo del clan Pillera Puntina. Il provvedimento è stato emesso dalla quinta sezione del Tribunale di Catania, che ha accolto un ricorso della procura distrettuale contro la decisione del GIP che aveva rigettato la misura per i reati di associazione mafiosa e per l'aggravante mafiosa nei confronti dei due indagati. Il provvedimento è stato emesso il 10 aprile 2024, è diventato irrevocabile il 24 settembre ed è stato notificato l'indomani. La notizia invece è stata resa nota oggi. Al centro del provvedimento ricostruisce una nota della procura l'operazione denominata Doppio Petto della Squadra Mobile della Questura, eseguita il 1 dicembre del 2023 con l'eseguita di un'ordinanza di custodia cautelare per 18 indagati, accusati a vario titolo e con differenti profili di responsabilità, di detenzione e porto di armi, estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, trasferimento fraudolento di valori, associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Il GIP aveva concesso la misura cautelare per le ipotesi di reato avanzate dalla procura, ma aveva rigettato la richiesta per l'associazione mafiosa e per l'aggravante mafiosa, ritenendo non sussistenti i gravi indizi. La procura ha presentato ricorso e il Tribunale di Catania ha ritenuto che entrambi gli indagati sarebbero stati pienamente organici al sodalizio mafioso e coinvolti nelle attività criminali dell'organizzazione.